C'entra nulla, darsi un patente di successo prospettico, perché era stato fatto una volta e perché ha funzionato significa non capire niente, ma soprattutto non vedere la realtà. Il centro storico era naturalmente uno spazio ovviamente pedonalizzabile, non fossato per il calibro delle strade, ma mi sembra che Piazza Roma abbia lo stesso calibro di Via Vittorio Emanuele o di Via Ruini, ma di che cosa stiamo parlando? È evidente che Piazza Roma non è assimilabile per mille ragioni al centro che peraltro fu pedonalizzato a suo tempo dal sindaco Spallini. Viceversa, Piazza Roma è un necessario punto di arrivo al centro storico.